guaglio buongiorno buongiorno comunque no vabbè quel sogno niente di che cuore non è che ha significato quello siccome lui sta scosso per questa situazione infatti ho deciso pure di non di non parlarne più perché gli dà proprio lo spavente capito gli fa paura quindi evitiamo è che solo non so che cazzo gli devo dire mi faccio sempre stimonologhi perché fino a quando parlasse per telefono purtroppo non ha questa possibilità e quindi non so cosa dirle vabbè parleremo non so neanche io che cazzo gli devo dire boh cuore e va buona vabbè senti e febbre stamattina fammi sapere ma pare che stia passando insomma almeno mi ha detto che ieri sera era 37 quindi sicuramente oggi saremo sfebbrati e vabbè sì perché dobbiamo iniziare cuore qua e dobbiamo uscire da là perché dobbiamo continuare il lavoro non è che possiamo stare a vita dentro sta sta clinica riabilitativa ci dobbiamo dare da fare perché dobbiamo proseguire che dobbiamo fare quella quella terapia per il non ritorno eh perché quella terapia dello statunitense io sto approfondendo e fa miracoli cioè nel senso che veramente diciamo elimina totalmente il rischio di qualsiasi tipo di ritorno eh quindi ci dobbiamo dare da fare cuore eh perché mostriamo bene perché ovviamente abbiamo abbiamo pulito tutto abbiamo distrutto tutto eh quindi dobbiamo assolutamente progredire eh fare sempre cose che ci portano a stare sempre meglio sempre meglio no vabbè sono felicissimo di come stai e cioè assolutamente non mamma mia dopo tutto ciò che abbiamo passato e finalmente stiamo vivendo un momento veramente di serenità eh sì e poi certo cuore eh si sente quello come stai si sente quello che dice eh si sente le cose che fai e queste sono tutte cose che e ti fanno capire che comunque stiamo vivendo un momento un momento veramente felice eh eh dobbiamo farlo progredire per sempre eh eh va bene ma eh cuore io sono andato a fare già colazione oggi ti devo dire temperatura spettacolare 13 gradi a prima mattina mamma mia che è eh 20 gradi arriva oggi eh come 13 gradi temperatura stanno iniziano ad alzare le temperature speriamo che non fa come a quello no che prima alza le temperature fa fa sbocciare tutto e poi ghiaccia di nuovo tutto e rovina mandorleti e quant'altro eh non è che abbiamo la campagna però sai dispiace poi per quelli che lavorano su quel settore magari essere colpiti da 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 una situazione meteorologica non non idonea insomma è è un peccato va bene va bene senti e niente vado a farmi un caffettino e tu fammi sapere che devi fare stamattina va boh come gli fa sentire la canzone alla virgine no non è possibile non è possibile va bene dai va bene va bene facciamogliela sentire facciamogliela sentire no va bene tu mi stai facendo crepare con sto fatto di questa virgine babbo da me cuore mio da farmi un caffè ci aggiorniamo a dopo un bacio un cuore e un abbraccio